ciao ragazzi mi trovo all'interno della chiesa di santa maria in via ovvero la Madonna del Pozzo e qui c'è un piccolo presepe napoletano del settecento andiamo a vedere eccolo qui guardate è carino molto particolareggiato vedete questa l'abitazione il fornaio vedete le statuine del presepe napoletano sono tutte vestite con tessuti e il presepe è molto particolareggiato come tradizione popolare napoletana la grotta viene sempre costruita sui ruderi pagani vedete delle colonne dell'antica Roma proprio per sottolineare diciamo la vittoria del cristianesimo sul paganesimo questa è l'usanza guardate che carino molto piccolo è in fondo guardate c'è dipinto il golfo di napoli col vesuvio che è rutta molto carino quello che c'è le castagne tutti vendolo se c'è una bambinetta col girello va bene ragazzi un saluto a tutti e da questo piccolo presepe napoletano del settecento che qui in questa chiesa in santa maria in via ovvero la madonna del polso ciao a tutti